ciao a tutti ciao sono alessandro interpreto ruolo di christophe io mi chiamo marco e interpreto il principe ans delle isole del sud in comune con christopho sicuramente l'animo gentile il cuore buono in realtà con il principe ans io non ho molto in comune però abbiamo in comune la voglia di non accontentarci e quindi di arrivare sempre al meglio e di puntare sempre più in alto quello sicuramente sì la mia canzone preferita è monster la mia canzone preferita all'interno del musical è sicuramente vero amore ed è anche la mia scena preferita in realtà perché un momento in cui anna si accorge di quello che le è successo e quindi dà un senso diciamo a tutto il suo personaggio a tutta la storia mentre la scena preferita sicuramente la scena finale perché è carica di insegnamenti secondo me il pubblico dovrebbe venire a vedere lo spettacolo della regina dei ghiacci perché dà un'interpretazione e ha una cura nei rapporti tra vari personaggi diversa è molto più approfondita rispetto a quelle che noi siamo abituati a vedere nel cartone animato che tutti conosciamo e quindi questo aspetto è un aspetto molto commovente che fa riflettere e sicuramente toccherà il cuore di molti dovreste venire a vedere lo spettacolo perché ha tanto da insegnare e la parte più emozionante appunto è quando si tratta di legami familiari così forti che vengono scombussolati da qualcosa che poi comunque riescono a tornare saldi e forti come prima vi aspettiamo il 6 ottobre e il 4 dove al teatro jolly di oggi nato oh yeah ciao 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 ciao